benvenuti amici di steinauto oggi nuova tappa da locauto 2 hyundai a novara in strada provinciale vi andrate 63 un luogo dove potrete scoprire e provare su strada tutte le ultime novità di gamma buongiorno a tutti ecco di nuovo il nostro fiore all'occhiello la piccolina di casa madre hyundai 10 sempre con cinque anni di garanzia chilometraggio illimitato con rottamazione questo mese a 14.500 euro bisogna sfruttare questa opportunità perché i fondi sono pochi e finiscono in fretta nella versione di partenza già cerchi in lega navigatore e tutti i sistemi di sicurezza attivi veniteci a trovare passiamo a nuova cona nella versione full hybrid e nel line completamente rivista esteticamente e internamente la vettura è da provare sono 140 cavalli in combinato con un doppio motore sia termico che ed elettrico venite a provarla con i nuovi eco incentivi la si porta via ad un prezzo stracciato e se state cercando un'auto usata ma di qualità locato 2 è il posto giusto per voi qui troverete un vasto assortimento di auto usate chilometro zero e aziendali tutte rigorosamente garantite e contraddistinte dal marchio locato select di nuovo passiamo ad altri marchi molto importante abbiamo più di 800 vetture in pronta consegna di ogni gamma e ogni segmento un esempio serie 1 m sport 118 automatico per poi passare a tonale e per poi passare a fiat panda chilometri zero quindi vetture per ogni esigenza ma non è tutto qui troverete anche il service ufficiale hyundai pronto ad assicurarvi la migliore assistenza per i vostri veicoli quindi se state cercando la vostra prossima auto o semplicemente assistenza per quella attuale locato 2 hyundai è qui per voi venite a trovarli in strada provinciale di andrate 63 a novara e vivete il mondo locato 2 60 anni di passione per l'auto insieme verso il futuro continua accettando la vostra e vivete il mondo locato 2 60 anni di passione per la sua usate 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 usate